ciao bimbi come state ma avete visto che belle giornate fuori c'è il sole ed è arrivata la primavera e in primavera sbocciano i fiorellini guardate un po' oggi la Vale è andata giù nel suo giardino e ha preso dei fiori guardate mmm mamma mia sono tanto profumati sentite riuscite a sentirlo il profumo sono profumatissimi questi fiori allora anche noi possiamo fare i nostri fiorellini di primavera allora disegniamo il ramo prendiamo qua la Vale alla tempera marrone per disegnare l'albero maletto marrone per questo possono aiutarvi anche la vostra mamma e il vostro papà a disegnare un bel ramo dove poi noi metteremo i fiorellini appena nati appena sbocciati ci sono un po' più piccolini e dei rami un po' più grossi dove ci sono attaccate i fiorellini e le foglioline belle verdi anche come questo è fiori foglioline e il rametto marrone allora adesso che è pronto il ramo la Vale vi fa vedere che prende una bottiglia la collettione dell'acqua e con la bottiglia facciamo i nostri fiori poi la Vale ha già preparato un colore facciamo così qua lo dovete schiacciare bene e forte la bottiglia dentro al colore e poi guardate un po' la magia guardate i fiorellini riproviamo i fiorellini sul ramo adesso lo facciamo su tutti i rami qua facciamo anche sotto stampiamo sì e così ecco guardate che belli wow un ramo pieno di fiorellini colorati come questi provate a farlo anche voi con la bottiglia e il colore ciao quindi adesso la maestra Vale vi saluta ciao ciao grande bacio grande bacio Grazie a tutti.